Buongiorno, siamo qui a InterSolar, stand EI SPA. Noi siamo produttori di inverter e convertitori. Oggi a InterSolar presentiamo la linea sciolta di prodotti di convertitori. Abbiamo le soluzioni da 35 kW, da 70 kW. Sono soluzioni sciolte che solitamente integriamo in quadri con anche sistemi di accumulo e batterie. In questo caso possiamo anche fornirli a integrator per essere integrati su dei cabinet fatti da terzi. Abbiamo anche queste soluzioni book style, molto compatte, sempre di diverse potenze. Quindi partiamo dalla potenza più piccola che sono i 10 kW di Cdc isolati. Abbiamo poi anche i convertitori sempre book style di C a C fino a 50 kW.